Siamo legati che cosa? Il fatto che abbiamo quattro impianti. Una domanda che si fa al profano è ma a questo punto basta aumentare il numero degli impianti e posso usare materiali diversi? Sì, se avessi l'osso. Però ricostruire l'osso significa sottoporsi a un intervento in più. Quindi fare ricostruzione del seno macellare oppure essere fortunati di essere tra quei pazienti che l'osso ce l'hanno a posto. Tu l'osso? Non l'avevo. L'hai dovuto ricostruire. E anche i due grandi rialzi. Grandi rialzi, se non macellare. Quanti impianti avrai alla fine? 15 impianti. Partire con più impianti, ecco, ha toccato un punto fondamentale. Quando ci si cura all'estero non è come curarsi sotto casa. Nel senso che ci possono essere imprevisti singoli, imprevisti multipli. Ci possono essere, per esempio, imprevisti che il paziente non si può permettere di percorrere. Noi partiamo sempre col massimo. Quando un paziente viene al policlinico. Noi partiamo col massimo perché è più facile poi, se qualcosa va storto, rendere i soldi di un impianto non integrato. Ok, ma con 7 impianti io un trattamento... Dove aver messo i 15 sono andato a 15. Si è andato a 15, ma con 15 lo finisco il lavoro. Ma se io inizio con 4, se ne perdo uno, il lavoro non lo finisco più. Quindi è importante, quello che si dice, tagliare largo. Quando si fanno riabilitazioni o chirurgie, per esempio, per pazienti oncologici. Togli due stazioni linfonodali, non importa. Ok, io voglio avere la sicurezza che non c'è metastasi. Voglio avere la sicurezza, taglia un po' più largo. Ok, quel dente è così così. Quanto è l'osso? 50%. Lo puoi salvare? Sì. Ok, però guarda la foresta, non guardare l'albero. Quanti denti ha perso? Tutti. È rimasto un dente. Toglilo. Perché mantenerlo, quel dente, significa interrompere, dal punto di vista biomeccanico, l'uniformità di comportamento delle mascelle artificiali che devo fare. Avrò invece che due blocchi, se tengo un dente qua, tre blocchi. Tre blocchi significa un comportamento. Qua il ferro di cavallo si comporta un monoblocco. Sotto, uno sventaglia da questa parte, l'altro dall'altro. E sono esposti a fratture in monconi per dislocazione laterale dei carichi. Meglio un ferro di cavallo. Quindi, questo è un esempio che vi ho fatto, dove partire largo ci aiuta in caso di problemi. Sacrificare qualcosa ci aiuta a evitare che ci siano problemi. Partire limitati con trattamenti come questo, a livello di materiali, come la resina, e avere pochi impianti. Se ho un paziente, per esempio, di 40 anni, quel paziente vivrà, mediamente, dicono le statistiche, 43 anni, se è uomo. 45 se è una donna. La resina, dopo 5-10 anni, si consuma completamente. Quindi, in realtà, è un palliativo questa protesi, non può essere vista come una protesi definitiva. E 4 impianti dentali, se magari il paziente ha tanto osso, sono limitanti. Avrei dovuto mettere magari il massimo degli impianti dentali. Se ho un osso così e metto impianto qua e qua, l'osso che sta in mezzo, che succede negli anni? Si atrofizza.